Le precarie condizioni di lavoro in cui versano i reparti covid del DEA a Vallo della Lucania Agropoli impongono un immediato reclutamento eccezionale. Gli addetti al servizio sono stremati per l'eccessivo carico di lavoro conseguente al perdurare della pandemia in atto, che allo Stato sembra non arrestarsi e nel contempo sono messi a dura prova con carenza abnorme di organico e conseguente mancato affiancamento di professionisti esperti. È altresì innegabile che i lavoratori sono costretti ad effettuare numerose ore di straordinario che effettuano con spirito di sacrificio e abnegazione al lavoro, ma che influisce negativamente in quanto incidono sulle possibilità concrete di recupero psicofisico. Allo Stato attuale risultano in dotazione presso il presidio ospedaliero di Agropoli in terapia intensiva 14 infermieri con sei posti letto di terapia intensiva e quattro di subintensiva. Ancora presso il presidio ospedaliero di Agropoli in malattie infettive 11 infermieri di cui tre arruolati mediante reclutamento della protezione civile i cui contratti sono in scadenza, rispettivamente due il 18 gennaio e una unità il 31 gennaio. e tre infermieri che della medicina di urgenza di Vallo aiutano a coprire i turni presso il presidio ospedaliero di Vallo nel reparto Covid. Otto infermieri con 12 posti letto tra media bassa intensità, subintensiva, intensiva e ginecologia. Occorrono nell'immediato reclutare almeno otto unità infermieristiche presso la terapia intensiva del presidio ospedaliero di Agropoli, otto unità infermieristiche presso l'UOC malattie infettive del presidio di Agropoli e di altrettante otto unità infermieristiche presso l'UO Covid del presidio ospedaliero di Vallo. In tale condizione occorre reclutare le unità mancanti anche mediante, vista l'urgenza, lo scorrimento di graduatorie in essere e avvisi pubblici ad oras per le zone disagiate. Questa la dichiarazione del coordinatore della CISL-FP Giovani Salerno, Andrea Pastore.